Quello che vedete alle mie spalle è scooter, scooter è un veicolo elettrico che non richiede l'uso del casco, è una specie di ciclomotore ed è completamente diverso da qualsiasi cosa abbiate visto fino a questo momento, nonostante le doppie ruote anteriori vi possono ricordare un MP3 o un Gillera Fire, nonostante il motore elettrico non sia la prima volta che lo vedete applicato a una moto, nonostante la copertura che avete già visto nelle BMW, è un progetto completamente diverso, nato tra l'altro grazie a crowdfunding e che si sta sviluppando in modo molto interessante. Scooter è un servizio di mobilità basato su questo veicolo, quindi l'innovazione non è solo il veicolo ma il modo in cui facciamo usare il veicolo che non sarà in vendita, è un veicolo elettrico pensato esclusivamente per lo sharing, quindi è facile da usare, è stato disegnato da un pezzo di carta bianca in modo da poter accogliere il maggior numero di persone di tutto il genere di età e di prestanza fisica, è una poltrona in cui si mette una cintura di sicurezza e su questa poltrona con tre ruote si va in giro, quindi è un veicolo che verrà messo in sharing e non venduto. Essendo così particolare, nessun pezzo di questo veicolo è utilizzabile altrove, contiamo di poter ridurre drasticamente gli interventi di riparazione dovuto a dei furti o dei atti vandalici, è molto robusto, non ci sono pezzi di plastica, durerà molto di più rispetto ai nostri competitor e quindi contiamo molto presto di poter arrivare nelle grandi città e migliorare il modo in cui le persone si muovono in maniera più sicura, più divertente e risparmiando anche del denaro, perché le nostre tariffe saranno molto inferiori rispetto a quelle attualmente praticate dai nostri competitor. Peter si presenta con un modello e-business diverso, specialmente nelle tariffe. Sì, noi contiamo di suddividere la nostra utenza in diversi gruppi, in diversi settori, ci sono coloro che hanno magari una necessità di muoversi molto velocemente e indipendentemente dal costo della corsa e pagheranno la tariffa piena, ma molti altri, soprattutto pensiamo magari agli studenti, che vorranno utilizzare il servizio ma magari non hanno il budget per farlo. In quel caso chiederemo loro di diventare i nostri contributor, delle persone che fanno dei servizi per nostro conto, come magari parcheggiare il veicolo in una zona dove abbiamo molta possibilità di affitarlo molto velocemente, oppure se ci vanno a ricaricare le batterie, cioè sostituire la batteria in uno dei vari charging station dentro la città, oppure magari di andare a recuperare un veicolo che è stato lasciato in una zona un po' remota, un po' abbandonata e magari il veicolo non viene utilizzato da diverse ore, gli chiederemo di andare lui a prendere questo veicolo, in cambio daremo delle corse gratis o addirittura pensiamo di ritribuire queste persone con dei crediti di mobilità. Questa non è la prima generazione dello scooter, mi ricordo di averne viste anche delle altre, quali sono le ultimissime novità introdotte in questo modello? Rispetto al modello che vedete, che è uno dei primi prototipi, abbiamo cambiato il materiale costruttivo, è diventato tutto in alluminio, questo per rendere più leggero, per allungare le autonomie e per rendere più facile la guida. Inoltre c'è un portapacchie posteriore per mettere nel bagaglio, ma anche per adattarlo a dei case di aziende che vorranno avere il nostro veicolo in uso esclusivo e abbiamo anche la possibilità di caricarlo tramite cavo, quindi in colonnina, questo soprattutto per le aziende che hanno infrastrutture di ricarica presso le loro sedie. Abbiamo finito e concluso la ricerca e sviluppo sul veicolo che è pronto per andare in produzione di massa. Quello che ci manca ovviamente è il capitale per poter mettere una flotta abbastanza importante nelle grandi città. Siamo in questi giorni, in queste settimane in fundraising, stiamo parlando con diversi investitori italiani ma anche e soprattutto stranieri, anche grandi aziende del player mondiale della mobilità. Speriamo di darvi buone notizie a breve e poter vedere i nostri mezzi nelle grandi città.